Giuliano Dottati, il Comune di Pescara che ha dato sempre il risalto allo sport da oggi può vantare anche la riduzione dei costi? Noi sin dal momento in cui qualche anno fa in seguito al predissesto abbiamo aumentato in maniera importante i costi degli impianti sportivi, delle tariffe degli impianti sportivi. Ci siamo sempre posti l'obiettivo di cercare in qualche maniera di riportarli a una cifra più accessibile per chi fa attività sportiva. Devo dire che per ottenere questo risultato c'è stato un duro lavoro da parte della struttura, pungolata da me e da alcuni consiglieri comunali. Adesso abbiamo ottenuto questo risultato, di più non si poteva fare in questo momento perché ripeto noi continuiamo a stare nella condizione di predissesto ma questo abbassamento delle tariffe del 10% che poi su alcune situazioni particolari però aumenta anche in maniera sensibile era l'unica cosa che potevamo riuscire a ottenere come risultato in questa fase. È stata una scelta politica il fatto che tre impianti, il Pala Elettra 2, il Pala Rigopiano e il Giovanni Paolo II ritornino nella gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale. Io ringrazio intanto chi ha gestito gli impianti in questi anni perché sicuramente sono stati gestiti in maniera valida però è stata fatta una valutazione da tanti punti di vista e si è deciso che l'interesse pubblico in questo momento è quello di gestire gli impianti direttamente.